E' stata approvata la riforma dell'assetto organizzativo del Comune di Napoli. La nuova struttura prevede una diminuzione da 223 a 151 servizi, con otto direzioni centrali al posto delle 20 strutture apicali del passato. Il piano si ispira alle esigenze di aumentare efficacia ed efficienza dei servizi al cittadino, eliminare le aree di sovrapposizione e duplicazione delle strutture che determinavano difficoltà di coordinamento delle decisioni ed individuare il responsabile dell'attività amministrativa. Governiamo nel segno del cambiamento, quindi da un lato c'è un intervento necessario a seguito degli interventi legislativi che ha messo in campo il governo Monti, altri, la maggior parte, sono interventi strutturali che noi abbiamo fortemente voluto, ad esempio anche l'informatizzazione spinta di tutto il Comune di Napoli, le banche dati, quindi è la nostra riforma che cerca di evitare che ci siano scollature tra il momento politico e il momento amministrativo. Le principali novità introdotte dalla riforma sono anzitutto il centro unico per gli acquisti, per semplificare, legare e ridurre i costi del 20%, poi il servizio autonomo sistemi informativi, il rafforzamento dell'URP, la rideterminazione dei servizi delle municipalità, i provvedimenti sui controlli interni sul mercato del lavoro e lo sviluppo economico e l'autorità garante anticorruzione e trasparenza, un organo per prevenire fenomeni corruttivi nelle strutture del Comune. Ma grande attenzione viene assicurata anche al personale interno. C'è un risparmio complessivo in questo anno di circa 5 milioni di euro per costi di personale, perché non ci sono sostanzialmente più incarichi esterni dirigenziali e una valorizzazione anche delle esperienze maturate in questi anni da parte di alcuni funzionari e dei più giovani. Questa è una caratterizzazione importante, abbiamo deciso che nelle posizioni organizzative all'interno del Comune siano valorizzati i giovani, quelli che anche lavorano da pochi anni al Comune, in modo da trovare un giusto equilibrio tra chi esperienza e i giovani, molti dei quali sono stati sottoutilizzati sinora. In un momento in cui il Governo centrale procede con tagli particolarmente pesanti per gli enti locali, il piano di riorganizzazione interviene quindi sia a razionalizzare la spesa proseguendo nella lotta agli sprechi, sia a modificare la struttura dei processi decisionali. C'è accaduto qualche volta in questo anno che si prendevano decisioni politiche, si faceva un po' fatica a farle eseguire in tempi rapidi e poi c'è anche un altro dato che vorrei sottolineare, la semplificazione della macchina amministrativa incoraggia gli investitori a intervenire nella nostra città. Un ristoratore ha bisogno di un permesso per occupare il suolo pubblico, se lo può avere lo deve avere subito, se non lo può avere si dividere, cambia progetto, cambia idea perché non lo può avere, non può aspettare due mesi, tre mesi, quattro mesi. Quindi il tema principale è trasparenza e semplificazione.